Nonostante la pandemia, nonostante la crisi economica sociale, nonostante la disperazione di tante famiglie e attività commerciali, stanno arrivando ai cittadini del comune di Castellabate bollette salatissime da pagare entro il 19 maggio, dopo due mesi di completa inattività lavorativa. A renderlo noto attraverso una nota stampa, il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano. Questo è il risultato di scelte politiche nefaste e scelerate fatte dal sindaco e dalla sua maggioranza che oggi si ripercuotono con maggiore forza negativa su tutto il territorio, sottolinea il consigliere. A Castellabate i cittadini sono costretti il più delle volte a rateizzare un bene primario ed essenziale come l'acqua e mentre stanno pagando le rate della prima bolletta ne arriva un'altra ancora più salata, perché il problema, come abbiamo detto infinite volte in questo ultimo anno, sono le tariffe. Il problema è la CONSAC e chi l'ha portata nel nostro territorio. È così che si vuol far ripartire l'economia locale? È questo quindi il piano dell'amministrazione comunale per la fase 2? Tasse, tasse, tasse. Come nel loro stile, in questi giorni sento spesso dire all'amministrazione che sarà al fianco dei cittadini in questo momento storico, ma onestamente, quando arrivano queste bollette, la sensazione che stia da un'altra parte, conclude nella nota stampa il consigliere d'opposizione Luigi Maurano.